... Dicevo con non poca emozione che annuncio a voi tutti che l'opera è il risultato autentica. E' veramente una grandissima felicità poter confermare che il dipinto ritrovato lo scorso dicembre è veramente quello che apparteneva alla galleria Ricci e Oddi, è il ritratto di signora di Gustav Klimt, con sottostante il ritratto di fanciulla adolescente sempre dello stesso autore. Il valore dell'opera è inestimabile perché sono due dipinti l'uno sull'altro, quindi per forza ha una sua unicità che la rende inestimabile. Posso solo dire che chiaramente l'opera non è restituibile alla galleria Ricci e Oddi, se non per breve tempo, perché dobbiamo svolgere verifiche di natura datiloscopica biologica per verificare se vi siano tracce utili per risalire agli autori. Grazie. Grazie. Grazie.